È il momento di tirare, ecco qui. Difficile trovare un modo più appropriato per onorare la memoria di Gianluca Mattioli. Pesaro ricorda il suo compianto concittadino, arbitro internazionale di basket scomparso nel 2017 e lo fa dedicandogli un playground completamente riqualificato dopo 20 anni di progressivo degrado. Quel campo da basket di Via Ponchielli nel quartiere di Villa San Martino dove Gianluca è cresciuto. Luogo giusto con momento giustissimo per la dedica. Con le final ed di Coppa Italia di basket in pieno svolgimento alla vitrifrigo arena che convogliano sul colorato playground di quartiere il gota della pallacanestro nazionale. Dal presidente di Lega Umberto Gandini a quello federale Giovanni Petrucci passando per i vertici del mondo arbitrale Stefano Tedeschi e Roberto Begnis a quello dell'amministrazione locale, dal prefetto Ricciardi al sindaco Ricci ed esponenti della Giunta. Un significato che ha un alto valore sociale, ambientale e sportivo. Questo è un campo che penso sono 20 anni che non veniva più utilizzato. Ne parlavo prima anche con Ario Costa. Qui era impossibile giocarci perché le persone giocavano veramente notte e giorno, campioni del passato e del presente. Quindi sono orgogliosa di aver ridato vita a questo luogo. Questo luogo che è anche il luogo di Gianluca Mattioli. Gianluca è nato nel quartiere di Villa San Martino e è a lui che abbiamo deciso di dedicarlo. Penso che fosse un segnale dovuto dell'amministrazione comunale. Gianluca, sappiamo tutti, 32 anni da arbitro di basket, 25 in Serie A, quindi ha indossato la divisa nazionale e internazionale. È stato un pioniere del 3 contro 3, un ragazzo sociale, socievole, altruista, una persona che era un simbolo non solo in campo ma anche fuori. È così che voglio riguardare a lui. Un campo colorato e sostenibile, realizzato dall'azienda Ecopneus con 3200 kg di gomma pneumatica riciclata. L'immagine riportata sulla superficie è stata invece realizzata da Manuel Bernardini, designer, vincitore del bando di concorso lanciato dal Comune. Presente naturalmente la VL con i suoi atleti Moretti, Demetrio, Tambone e Zanotti, protagonisti dei primi canestri fra gli applausi e le emozioni della famiglia Mattioli. Dalla sua prematura scomparsa abbiamo ricevuto veramente, veramente tantissime manifestazioni di affetto e questa è accoronamento proprio perché avere in una città come Pesaro un campo così bellissimo, un playground che lo ricordi è veramente il regalo più bello. La targa, io penso che tutti quelli che verranno a giocare qua, a palleggiare e vedranno la targa sarà per tutti un'emozione enorme. È veramente da parte mia e dei miei figli il ringraziamento di cuore per tutti quelli che hanno voluto, hanno contribuito alla realizzazione di questo playground.